In questo video vedremo lo spettacolo della notte rosa 2021 di Lido delle Nazioni che vedono protagonisti sul palco Max dei Fichi d'India e Beppe Altissimi. Questo è uno spettacolo ovviamente di tipo comico e ne vedremo qualche spezione, buon divertimento e buona visione. Per farvi vedere, arriva la polizia, arriva la polizia, sicuriti, ma se non sicuriti che è, buonasera, buonasera, andate a mangiare la barba blu, no, no, glielo dicono, sono la signora Olga, non siete in ritardo, abbiamo iniziato prima lo spettacolo, è di Varese, di Varese, abita Varese, 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 vabbè insomma vado signor Beppe, vado, vado. E poi ci vedete, oddio, 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 ha un po' di bazzar cattoletta. Volete essere infamilato un altro pesce? Un polipo? C'è la ragazzo del ruolo, c'è che ti basso e che ti con le mani, c'è la ragazzo del ruolo, c'è che ti basso e che ti con le mani. Vado a mia, pregi un polipo! Pregi un colzone! Coltello. La matematica non è una comunione, eh? il polo tagli a metà, il quaderno, perché dentro c'è l'ingiostro poi 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 lo limone dallo limone al pesce poi piggio il polo e poi lo spazio con il suo muro il muro è che dolisce o che dolce d'arancia c'è dolce o che dolce d'arancia waka waka mi scappa l'altra comunque io voglio fondare un partito io voglio fare come Beppe Grillo giusto, il mio partito si chiamerà forse Italia perché oggi l'ozio è il padre dei vizi ma l'ozio è anche il fratello di mio papà quindi questa è la verità è il raro umano est e il raro ovest ecco perché l'Italia va male non guardare la pagliuzza che è nell'occhio però anche tu la trovi che è nel culo che è più importante è questo che io voglio dire e mi faccio capire come i nostri polizi che si fanno capire che in Italia è vero che squillano le trombe ma trombano anche le squillo quindi cosa voglio dire con questo voglio dire che il gallo canta anche la mattina prima di finire in pentola quindi chi non risca poi va a marostica quindi veramente ragazzi anche le uova quando cadono si rompono perché sono fatte col culo quindi c'è qualcuno di Napoli qualcuno di origini ah Puglia e Napoli di Napoli Napoli e Napoli capo di mondo ehi allora godo godo milanesi adesso ho bisogno dei milanesi c'è qualche milanese vacanziero qua eccolo qua c'è un po' il position di dove signora? Settala che non è proprio Milano e ho capito io che dei milanesi fa come quando vanno giù in meridione quelli del nord che dicono che soldi ma l'hanno centro di dove? cinisello che cazzo c'entra? cioè non puoi dire milanesi dai un milanese il che è milanese vediamo dove? ah eccolo là guarda due mani aspetta devo andare quel signore là di dove? di dove? vengo io da te di dove sei? Milano dove? ma di dove? boffa l'ora data boffa l'ora data ma mi dovete pigliare per il culo ma io non lo so cazzo cioè mi fa anche fare cento metri per sentire e dire boffa l'ora data ma va a darmi al culo e boffa l'ora allora facciamo una bella cosa cioè ma siete un pubblico di pazzi però posso chiedere una cosa adesso si hai problemi e chi non ce li ha i problemi? ce li hanno tutti i problemi oggi hai problemi hai moment hai moment ho finito il moment c'ho solo il voltarei nell'aulio anche quello andava a ruolo help help io ho finito le felpe c'ho solo le magliette maniche corte bicaos bicaos no sono due canals è tutta un'altra caos senta me hai problem hai problem please 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 e please tu e sorda please please tu pulis pulis su please ho già pulito c'è un'altra caos 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 il posto giusto il momento giusto e con la persona giusta bene noi siamo gente al tu per tu tu per tu no tu per tu vuol dire un modo di dire yes lui tira fuori l'arganiello veloce io sono lì chiesto e dici papà te lo stai facendo vai mettere le mani di tua madre non ci prende niente non ci prende non ci prende non mi metto le mani di gara quindi lei vende e dice oh è un altro gioco è un altro frutto è un altro gioco 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 è un altro gioco